ciao a tutti bella gente il vostro catto è ancora qui con voi yeeeh no basta vabbè sono in compagnia di black dragon siiii vai allora siamo qui su sniper elite nazi zombie per poco non mi ricordo molto il titolo perfetto bell'inizio pensavo che fosse ancora il primo vabbè comunque vai pronto a giocare guarda pronto io sono pronto da ufo no sto facendo ricerca partita che cazzo ma che? no rinvitami cazzo guarda ah perchè ho mutato aspetta che t'ho mutato e non ti sento ok adesso ti sento sei o devo tornare indietro? vai minchia ma non mi fa selezionare ah ok vai aspetta che mi prendo il mio fucile non ci sono però mi devi invitare vabbè guardiamoci intanto il filmato iniziale no ok aspetta forse quelli che vedono il mio gameplay no bello siamo in quattro anche se siamo in due ma vabbè sono rosso cazzottissimo adesso ti inviterò da te c'è il video da me ci sono due zombie che si stanno ah che t'ho invitato si ok ci stanno allora adesso dovrebbe accedere dimmi che c'è si e connello allora un momento questo tanto faccio un po' di accio e prendo eh come ti è andato bene questo no il topson inizia partita boh ci sono oh ecco oh le finalmente siamo riusciti oh moh oh ci sono ah abbiamo messo zombie per quattro quindi c'è un sacco di zombie ieri abbiamo provato con tre però però è troppo facile ovviamente facciamolo con quattro ci complichiamo la v c'è c'è jack norestein però tutte e due insieme no aspetta io sono brusley tiè jack norestein è più figo ok andiamo giù stai tenendo il tempo te no no vabbè facciamo a caso tiè no guarda quanti zombie no c'è una festa qui dentro no 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 ma è stato un bici per uno ma che cazzo 11 per 1 come è possibile boh si boh il ca lanciato una granata boh quanti no no non battere mai 11 no ma vaffa q vaffa q oh vaffa q anzi adesso glielo dico in questo video ti ricordi ieri lucas ahahah 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 quell'idiotala insomma esatto gli dicevamo vieni vieni con noi vieni con noi non ci seguiva io andavo a caso lui andava e poi il catto ha deciso di insultarlo in italiano non in inglese in italiano uccidata del cazzo viene con noi che cazzo ah vedi che bisognava sparare al ducche ci saranno miliardi di zombie trovo modo per raggiungere il centro commerciale un'altra ahahah oh mi cazzo però volevo vedere la spi oddio che bezzo oh muoverò ahahah ahahah ma sono dietro giocami cazze non mi dito oh preso però che andava lì tranquillamente con la granada cazzo cos'è sta roda nooo non ho sparato c'è un po' di gente dietro no davvero tanta dietro aspetta 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 anche davanti questo è proprio aspetta 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 vabbè te fai davanti e faccio dietro 5 per 1 ma quanti ce nè oddio oddio cazzo scatto guarda 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 10 per 1 4 3 4 3 4 4 4 toccate il mio cazzo 4 per munizioni 4 toccate tutti 4 per 4 l'usul video ma che cazzo è scorreggiate quale sto malissimo oh munizioni madonna quanti zombie beh madonna casino zio fa eeeh questo è per 4 eeeh e dopo ah ma di qua non andarti da tutto ah è vero c'è da uscire oh allora qua c'è il tuo fucile a pompa c'è la pompa no no shotgun eccolo qui oh l'arma più forte del mondo con ben 12 colpi cazzo ah 18 24 olè ok colpi boh possiamo andare dove c'era da andare adesso cos'è questa roba qua fai beeello ma che cazzo e moh no 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 non è che c'è ancora uno zombie ah no ah è chiuso qua eh eh bene eh eh si cazzo cazzo che cazzo ah il cecchino ah guarda c'è un cecchino ma ma che non lo prendo ma invece si che lo prendo, oh a rallentino oh eccoli qua si è preso oh oh ahahahah oddio metto una mina in shampoo non va bene guarda cosa faccio ma quanti sono, ma si spara dinamite si sono morto per la patria dimmi quanti uccidi ti prego quanti uccidi non lo so, ma l'ha detto però tutto dato come l'anno 1 2 3 4 5 5 5 7 8 9 10 12 13 come l'altro 15 massimo 15 cazzo che male ho sparato minchia ancora ancora ma cosa possibile ehm c'è un cecchino ancora sai c'è uno che mi sta rimpendo di mazzate ahi non è il c'ho 10 boom manca boom va a far fuori quanto cazzo avremmo registrato il gioco muore dai che te lo distrago te lo distrago vai no mi sto ammazzando non so non so beh che cazzo è sto cecchino che dobbiamo prenderli figa sono mongoli quel cazzo di cecchino là in fondo allora è la spari è della nebbia ok lo vedo ce l'ho ce l'ho ce l'ho si si e altri giorni alberto aiuto forse da 4 o un po' se è un po' troppo sì non mi legge con la pistola è l'ultimo ok tu ti egi completato uuh che bello eh questa era la più simbolo satanico qui no la shotgun ha presa non voglio non voglio tomson uuh scheletri minchia quanto cazzo mi stanno con i c***o ai 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 vangolo 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 stupidi scheletri guardatela con mio fucippo un po' no adesso forse sono un'altra aspetta c'è sorpreso no io lo metterò una mina così non per la sponda la festa di zombie ti è morto ti è ti è no merda ti è merda ma che te lo ti stacco ce l'ho ce l'ho buuuh io ti è ok 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 è preso di tutti te in pratica città eh eh via via scappa 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 aspetta aspetta quattro è morto anche uno ok oh stanno avvicinando un po' troppo no no sto morendo cura boh grazie c'è la pompa fuori no ce ne sono come lo fare per me faccio un 2 per 1 faccio qua oh io non ho più munizioni di niente eh io c'ho due stessi no di niente vabbè c'è la sicchino nata non c'è qualcuno che vuole scoppia non c'è qualcosa scoppia boh hai della dinamite sono 3 hai della dinamite eh mi sa di no ci guardo si ce n'ho una ah vabbè non lo sara adesso ah vabbè non c'è molta gente si non si sa mai arrivare il bestione beh stamattina per provarsi andavo ho fatto un cof a livello sniper elite a quel punto qua venivano fuori due tipi con la mitraglia eravamo in 4 però l'abbiamo oh munizioni minchia non lo sapevo hai visto che abbiamo preso insieme di coppia boh andiamo a posto ah qua c'è l'esplosione mega atomica occhio è una mina vabbè ah qua c'è il tipo grosso occhio là in fondo eccolo là beh facciamo tiravolo lì in mezzo e facciamo esplodere tutti cos'è quanta roba hai messo giù no non si sa mai se non muore ho messo una dinamite io vieni 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 oddio vieni addio vedete ti vieni vieni intanto una dilco io l'ho fatto oh zio mi ha laggato tutto perché è usato un po troppo presto continuato no lo sponoso ma che cazzo adesso si mette a bruciare sta andando a fuoco ti sembra il caso deve caricare adesso non arriva verso te ma questo Hitler un casino stia in granata mette una mina è un champo 5 per 1 ma che sta venendo da me questo? oh cazzo cos'è? oh cazzo non è morto madonna no ok ma cos'è cazzo esploso? cos'è? oh è esploso lui è esploso il titio mi è esploso in faccia figlio boh morti quanto stiamo registrando? boh forse è meglio che stacchiamo il primo video quando entriamo nell'area sicurezza no stronzo stava ricaricando vai oh allora boh anche secondo me sarà tipo dieci minuti boh forse anche di più quattro due si si adesso tengo il tempo però dopo vabbè quindi allora dove stai vieni qua beh vieni ti punto la faccia si action 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 vabbè comunque bella gente il primo episodio si conclude qui se il video è piaciuto lasciate un bel mi piace altrimenti lasciate un mi piace lo stesso c'è un lanciamissili dove quello oddio che bello panzerufa fraunsten aspetta aspetta no non sparare no panzerufa fraunsten panzerufa fraunsten panzerufa fraunsten panzerufa fraunsten